Non solo come cura delle patologie, la riabilitazione deve essere intesa anche come uno strumento per favorire il reinserimento del paziente in famiglia nella società. E' stato questo il tema e l'oggetto di discussione di un incontro organizzato presso la Sala Conveni di Universo Salute Opera Donuva a Biceglie. Articolato in tre sessioni, il confronto ha visto anche la partecipazione dell'Arcivescovo della Diocesi di Trani Barletta Biceglie, Monsignor Leonardo d'Ascenso, che si è soffermato sull'importanza di considerare nei percorsi riabilitativi il reinserimento dei pazienti nel contesto socio-familiare. Il convegno che oggi viene celebrato si pone proprio su questa lunghezza d'onda. Viene celebrato a poco più di un anno da quando Universo Salute ha rilevato l'opera Donuva. È un convegno che vuole in qualche modo agganciarsi a quello che era l'ideale di Donuva per farlo proprio e per poterlo continuare. Quindi vuole dare un contributo ad alimentare proprio questo atteggiamento, questo stato d'animo che ha appunto come dicevamo la capacità, la disponibilità, l'accoglienza, la riabilitazione. Il convegno incentrato sulla riabilitazione è stato organizzato ad un anno dalla intrapresa gestione della struttura da parte della società Universo Salute, un'occasione utile a tracciare un primo bilancio. È un bilancio che io dico che è positivo, sicuramente è positivo. Abbiamo chiuso un 2017 positivo, la semestrale del 2018 ci confortano un poco, ci sono grandi prospettive, dobbiamo guardare con ottimismo al futuro.